Fiorentina-Lecce-Pareggio termina così questa partita di oggi di Serie A, 27 agosto 2023. Un meno pareggio in due formazioni calcistiche di grande importanza, da una parte un club fiorentino-toscano, per l'altra un club pugliese. Affirmare che una della Fiorentina è stata González nel primo tempo, dopo pochi minuti da fischio d'inizio, e Duncan sempre nel primo tempo. Per quanto riguarda invece le risposte del Lecce, arrivano la prima, a firma di Rafia, la seconda, a firma di Nikola Krestovic, nel secondo tempo. Dunque diciamo così che si verifica quindi un pareggio, un risultato forse scontato per qualcuno, ma non per me. Comunque entrambe le formazioni calcistiche hanno dimostrato di essere abbastanza bravi e di essere comunque all'attesa della situazione. Formazioni equilibrate secondo me sì. Equilibrio su equilibrio, va bene? Eppure le statistiche parlano chiaro, infatti, che il processo di pari, i passaggi e la precedenza dei passaggi, è tutta a favore della Fiorentina rispetto al Lecce. Va bene? Iscrivetevi se vi fa commentate, ciò vado a andare a vedere.